Consigliere Bracco ha presentato un progetto di legge in consiglio contro la violenza sulle donne e anche un qualcosa di particolare che riguarda il Codice Rosa. Sì esatto, facciamo una premessa. L'Abruzzo si trova al settimo posto in classifica fra le 20 regioni d'Italia per quanto riguarda i femminicidi, cioè le donne che purtroppo hanno trovato la morte per colpa dei loro ex fidanzati o mariti. Questa PDL si pone l'obiettivo di istituire in ogni pronto soccorso il Codice Rosa. Cos'è il Codice Rosa? È un percorso di accesso privilegiato a tutte quelle donne che trovano il coraggio e la forza, soprattutto morale, di recarsi il pronto soccorso, farsi ovviamente curare ma poi trovare il coraggio di denunciare chi ha fatto loro del male. Lei si augura di avere un consenso da parte degli altri consiglieri al di là dei partiti e dei colori politici? Io penso che sia l'ABC della buona politica quella quando una persona viene eletta di spogliarsi dell'etichetta con cui è stata, del partito, della spilletta con cui è stato eletto e lavorare per la collettività. Un elemento che secondo me merita di essere molto sottolineato riguardo alla circostanza secondo la quale non implica questa PDL, questa proposta di legge oneri di spesa. Quindi il buonsenso direbbe approviamola per il bene di tutte le donne abruzzesi.